merda bene perchè è proprio lì che dobbiamo andare forza ti faccio strada notizie della squadra di ricognizione che? pensi che abbiamo ostiti tempesta interferisce con le radios fuori rosa non ti contattano a breve andrò a controllare no E' incredibile che sia vivo Sembra che lei lo abbia lanciato da una finestra del quarto piano Ed è sopravvissuto Diamine, un tizio ha dei santi in paradiso L'asta era ben sorvegliata Non dalla shoreline, non da noi Dico solo che non dovremmo sottovalutare questa gente Ma nemmeno lasciarci intimorire è più del dovuto Dico solo Ma chiunque? Pish. Ho visto forse. Mi copro le spalle, China. Sì. Vai. È così che si fa. Dai, andiamocene prima che ricompaiano. Grazie. Grazie. Grazie.